Buonasera a tutte, buonasera a tutti, io non vi vedo più, questo è interessante, comunque oggi faremo una discussione a partire da una parola, una parola che è periferia, periferici, per me mai titolo migliore per un incontro che mi vede seduto sul palco, nel senso che mi sento periferico non soltanto dal punto di vista dove sono nato e dove sono cresciuto, ma anche periferico a un certo mondo accademico, periferico a un certo modo di stare al mondo e quindi mi ci riconosco in questa parola. Questa mia piccola introduzione è per dire che noi ragioneremo sull'idea della periferia e dell'essere periferici con diverse sfumature di colori, nel senso che la periferia non è soltanto come spesso viene narrata nel mondo della cronaca, qualcosa dove succedono cose orribili, succedono, non bisogna neanche mitizzare la periferia soltanto come qualcosa di estremamente creativo e istituente, però la periferia non è soltanto quello, non sono soltanto fatti di cronaca, non sono soltanto ombre, ma sono anche luci. Sapete benissimo che tante delle cose che arrivano dal fuori, che arrivano verso il centro, molto spesso sono istanze che partono proprio dalle periferie, quindi oggi noi parleremo delle periferie sotto vari punti di vista, che non sono neanche soltanto quelli della città e dell'abitare un luogo, ma che sono anche le periferie di abitare il tempo, le periferie di abitare quelli che sono gli immaginari, i possibili futuri, le costruzioni dell'avvenire che sono nelle nostre mani. Quindi la periferia è un'immagine che vogliamo dare, che vorremmo raccontare, che in vari punti del nostro percorso abbiamo affrontato e questa periferia appunto è un decentramento dello sguardo. Cioè è pensare che si può mettere in questione proprio l'idea di centro, l'idea di nord, l'idea di sud, a seconda di dove voi vi mettete con lo sguardo, a seconda di dove girate il vostro corpo. Questo è stato proprio un breve cappello introduttivo per dire un pochino il tema che vogliamo affrontare e quindi io rimbalzerei subito la parola a Jonathan sulla questione appunto periferie. Grazie Andrea e grazie a tutti e a tutti di essere qui. Io mi capita spesso in questo periodo, in questi ultimi anni, di intervenire su questo tema, su questi temi ed è qualcosa che inizialmente ho salutato diciamo con una certa, un certo spaisamento anche se mi rendo conto della coerenza, perché io sono sempre stato uno poco interessato sin dall'infanzia ai luoghi. Cioè nel senso che anche poi crescendo, quando si trattava, non so, durante le scuole, l'università, quando c'erano dei temi, degli argomenti, di corsi, piuttosto insomma dei testi, bibliografie, sono sempre stato molto invece teso alla dimensione personale, quindi i luoghi, la questione della geografia, mi chiamava a poco per questo suo tenore che percepivo di impersonalità. Quello che poi è successo è che appunto invece oggi io mi trovo spesso a scrivere e a anche intervenire da vivo su questi temi, perché diciamo che è stata la mia storia e la scrittura anche sulla base della mia storia, nel senso che ho spesso ho scritto cose che hanno usato, materiale autobiografico, a farmi accorgere di una serie di legami molto stretti tra l'identità e i luoghi. E quindi mi sono accorto che molto della mia storia ha a che fare, si spiega o in qualche modo diciamo risuona con le caratteristiche del luogo, dei luoghi che ho attraversato. Per chi non lo sapesse anche se ovviamente diciamo noi che veniamo da quel posto lo ripetiamo spesso e io sono tra quelli, io sono di Rozzano e che è il più, io credo, poi qua faccio anche una piccolissima premessa, sono il meno competente dal punto di vista tecnico, quindi ho solo scampoli, intuizioni di racconto e appunto è sulla base della mia esperienza. Rozzano che è periferia sud-ovest ed è il più grande agglomerato di edilizia popolare del nord, quindi sono circa 6.000 alloggi, la popolazione è di 45.000 abitanti, quindi è proprio una cittadina più che insomma un paese e con una forte punto concentrazione, il cuore è costituito dalle case dell'Aler, quindi i palazzoni di otto piani con i cortili creati velocemente, si è tirati su velocemente negli anni 60-70 con materiali scadenti e con una scarsa attenzione anche all'aspetto, al piano estetico, per accogliere la pressione migratoria prevalentemente dal centro-sud. Quindi la prima caratteristica specifica di quel posto, cosa che ho scritto appunto in febbre, che è il mio esordio, è che è una specie di sud trapiantato, cioè io sono cresciuto in una famiglia, la famiglia di mia madre, in cui si parlava in dialetto, i miei nonni che sono arrivati dalla campagna negli anni 60, anche diciamo un po' forzati, nel senso che c'era, quello poi era il grande tema della possibilità del lavoro, delle fabbriche che erano tanto presenti e poi nel corso degli anni hanno chiuso, quel trasferimento loro l'hanno vissuto insomma come una necessità e un'occasione ma mai digerita del tutto. E quindi c'è stato, come è spesso nei posti come quello che vengo, io ho un forte attaccamento alle origini, e quindi loro di fatto non hanno mai imparato, spero di non urtare la sensibilità di nessuno, ma l'italiano, loro hanno continuato a parlare in dialetto. E quindi io sono cresciuto a Milano ma ascoltando e anche parlando il dialetto napoletano. Nel condominio io sono stato tanto con le amiche di mia nonna e quindi un dato positivo, se così vogliamo dire, è che io sono cresciuto immerso in un ambiente molto vivo dal punto di vista linguistico, una forte passione per il racconto orale. E a volte ho pensato che la mia passione per la scrittura arrivi da lì, quindi quando si fanno quei soliti giochi, quelle questioni che chiedono, pensare a come sarebbe stato nascere. Altrove io non lo so, se fossi nato in un contesto in cui non c'era davvero questa forte, e tuttora io mi accendo quando sento cose raccontate da mia nonna, perché c'è un talento proprio, narrativo. Però è anche quello che è successo in quei posti, e io non posso fare a meno di dirlo, è che c'è una responsabilità, poi anche magari su questo mi interessa sapere cosa ne pensate voi, cioè una responsabilità della politica, di chi ha amministrato, cioè che questi posti che sono nati in un modo abbastanza contingente, sulla base di coordinate ed esigenze specifiche, poi sono in qualche modo cristallizzati. Già la stessa in qualche modo edilizia pubblica si è, come si può dire, ha perso una vitalità che inizialmente aveva, cioè io, per esempio, le cose che penso, che sono arrivato ad intuire, l'ho fatto spesso sulla base della mia storia, cioè io sono figlio di queste due famiglie, una è quella di mia madre, quella di cui ho parlato finora, quindi scarsissimo rapporto con la cultura, con l'istruzione, a malapena le scuole medie, anche per finire quelle, insomma, a fatica, e famiglie quindi, cioè una famiglia operaia, come ce ne sono tante. La famiglia di mio padre invece era formata da mia nonna, che era impiegata all'ufficio del gruppo rinascente, ad Assago, e mio nonno che stava alle poste, era impiegato alle poste, e di notte, di sera faceva l'istruttore di nuoto. Una famiglia così oggi non starebbe mai nelle case popolari, per alcune questioni, cioè anche sicuramente il fatto, insomma, che c'è molta più richiesta, molte più persone da accogliere, e tra l'altro ci sono anche delle altre questioni, cioè il fatto di quante case, in questo punto specifiche, sono vuote. A Milano, tante. Quello che è successo, quindi, è che nel corso degli anni la popolazione dei posti, come quello da cui vengo io, è sempre più diventata, diciamo, omogenea, verso il basso. E quindi quando, in qualche modo, non c'è varietà, è difficile, no, che il cambiamento poi ci sia, perché si creano delle subculture, i riferimenti, i valori o i disvalori, tendono un po' a fissarsi, no? Io ho fatto un incontro ieri, proprio nella zona da cui viene Andrea, ero all'abbazia di Mirasole, si chiama, d'Opera, che è molto vicino a Rozzano, e mi ha colpito perché i ragazzi che erano sul palco con me, erano tre adolescenti, ed erano comunque, diciamo, già dei frequentatori dei centri giovani delle associazioni, quindi si sta parlando di una popolazione, cioè di una categoria, in qualche modo, un po' diversa rispetto a quella a cui io faccio riferimento, no? Perché tante delle persone che stanno nelle case dell'Aler spesso hanno dei problemi con la giustizia, sono famiglie, insomma, complicate, cioè manche proprio un tessuto sociale compromesso, eppure mi hanno colpito tanto perché erano estremamente realisti, ma io direi anche un po' troppo, no? Cioè, erano già convinti di rimanere lì, nel loro paese, erano di vari posti, di ultello, quindi un po' di varie periferie, però erano convinti che sarebbero rimasti lì, quindi, cioè, questo è sicuramente un dato molto forte, un elemento di identificazione, di appartenenza. È una cosa molto diffusa, che ho colto anche sempre nella mia famiglia, nel senso che mia nonna, cioè, la distanza dal punto di vista fisico, geografico, insomma, si tratta di pochi, non so, sette chilometri, dieci chilometri. Mia nonna, quando parlava, e tuttora, insomma, di venire a Milano, faceva questo gesto con la mano, come se fosse un viaggio in un'altra regione, ma, ieri, mia sorella mi ha scritto, perché ha visto che ero stato all'abbazia, e lei, insomma, ha 25 anni, ha la macchina, si sposta abbastanza, però vive a Rozzano, e mi ha detto, ma come, vieni qui in zona e non me lo dici, e dico, ho fatto questo pensiero, ed è una cosa che anche mia madre qualche mese fa mi ha detto, perché ha visto che ero passato, ma non sono posti lontani, cioè, si tratta di un viaggio di 14-13 minuti in macchina, c'è un, questa è una cosa di cui, diciamo, che mi sono accorto nel corso del tempo, cioè, a partire da una ridotta, o ridottissima distanza materiale, geografica, c'è però un senso di distanza psicologica, emotiva, molto forte, la sensazione che gli altri sono quelli, appunto, che se la passano meglio, anche, ovviamente, idealizzando, perché poi sappiamo tutti che invece, diciamo, nelle zone centrali non è che c'è il Bengodi, però questo è un problema e quindi, infatti, anche quando si parla di soluzioni, ecco, io che tendo a essere abbastanza duro, forse, non so, però, cioè, questo è da, io credo, in qualche modo, poi forse Andrea è più esperto di soluzioni, alterare, contaminare questo sentimento che è, che va di pari passo proprio con un senso di accettazione, di una sorta di editto di natura. Noi siamo nati qui. L'orizzonte di cose che possiamo permetterci, che possiamo scegliere, è questo. E la cosa che io trovo dolorosa è che c'è una trasmissione generazionale, cioè, si cresce ereditando questa cosa qui. Alcune persone, è chiaro, che invece fanno qualcosa di diverso, però è un po' lasciato a, così, al prodigio della genetica o del, che non si capisce perché io, per esempio, ho fatto le cose che ho fatto, nel senso che non avevo nessuno attorno che mi ha spinto, anzi, sulla questione della scuola, spesso io ho dovuto, cioè, sono entrato in conflitto, perché non era vissuta bene, cioè, una spinta più o meno netta a che uno vada a lavorare il prima possibile, perché il valore essenzialmente e comprensibilmente va verso i soldi. Va bene, io passerei, perché sono diventato il comizio, però giusto per dire che poi io sono affascinato dal posto da cui io vengo, che è però un posto ambiguo, fortemente ambiguo, perché tiene dentro appunto forze contrastanti, è chiaro che c'è un potenziale creativo e lo vediamo, anzi, poi oggi è diventata anche retorica, per certi versi la musica, ovviamente, che viene prodotto e tanto il racconto che viene fatto dalle periferie, però è anche vero che soprattutto in una città con la piega, con la direzione che Milano ha preso negli ultimi anni, è molto complicato, no? Perché se nasci lì tu hai questo senso di questa città sempre più alta, sempre più svettante, in cui succedono cose molto belle, e invece insomma tu senti che sei tagliato fuori, quindi o ti rassegni in qualche modo in modo implicito oppure cerchi dei modi, delle strategie anche diciamo non permesse della legge per conquistare qualcosa di quel bagliore, di quella ricchezza, benessere. Matilde evocativi, 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 Ah no, è vero, tieni. è acceso? È acceso? Ok. Sì, mentre parlavi hai detto una cosa potenziale creativo che mi è rimasta impresso, ho pensato di prendere da qua e di iniziare da qua il discorso che avevo pre-impostato. Avevo portato questo video di Ugo Lapietra che chiedo di dimostrare. Ugo Lapietra è di formazione architetto ma poi è molto altro e nella sua carriera ha fatto tantissime cose tra cui questo video che è il video sulla riappropazione della città e mentre pensavo di cosa avrei parlato oggi ho pensato subito a questo video in cui lui ad un certo punto parla della periferia quindi lo farei partire per poi commentarlo. nella periferia della città proprio dove il sistema è meno efficiente è più facile rilevare le tracce di un comportamento che è aspirazione alla riappropriazione dell'ambiente attraverso l'espressione di un desiderio represso di attività creativa che si manifesta concretamente in una certa modificazione del territorio. Come potete vedere lui si costruisce un avamposto nella periferia che è questa casupola e poi osserva da questo suo punto di vista si crea un punto di vista e questo punto di vista guarda sulla periferia della città e dice appunto che l'istinto creativo dell'uomo si vede nella periferia e lì ovviamente possiamo arrivare a dire come nel mondo dell'architettura la periferia per tantissimo tempo forse tuttora è stato un luogo di ispirazione e anche appunto è un contenitore di creatività degli architetti che hanno fatto bene e male come stiamo e qui si vede sia appunto le torri che le fabbriche che anche gli orti urbani come piccoli amambostri di creatività di un territorio tutti i parametri che caratterizzano l'intervento dell'individuo nella definizione del suo ambiente la periferia può essere considerata un luogo dove l'uso del terreno da bene e sperimentato bene e male quindi e di cui sicuramente gli architetti sono stati i grandi testimoni di questa di questa cosa e da lì appunto ho iniziato a pensare come la periferia possa possa essere definita anche appunto dal punto di vista architettonico che è quello che potrei portare io e la periferia è sempre considerata una cosa che ha una relazione con l'urbanità e quindi con il costruito ma anche leggevo in una forma arcaica la periferia è considerata una circonferenza il perimetro e da qui mi è venuto in mente un lavoro che ho visto recentemente nella facoltà di architettura fatta da Massimo Bricocoli e Paolo Abriata e Martina Bovo che era sulla 90-91 cioè quest'idea della periferia o soprattutto di un mezzo di trasporto che attraversa tutte le periferie o meglio raccoglie tutte le persone che vengono dalle periferie e mescola la prima parte di città e il lavoro era considerare non più gli edifici ma considerare il movimento di questo autobus attorno alla città di Milano come contenitore e come mixer di tutto quanto quindi gli studenti invece che fare ricerca sul campo facciamo ricerca sull'autobus cercando di osservare la popolazione che si continua a susseguire da una fermata all'altra allo stesso modo anche Federica Verona quando ha fatto il lavoro super cioè il festival delle periferie aveva commissionato un lavoro fotografico sempre su questa 90-91 e poi le mostre venivano alle fermate dell'autobus e l'ho trovato un modo molto interessante di parlare di questo argomento ma soprattutto di immaginarsi la periferia come questa circonferenza questa circonferenza che è poi estremamente inclusiva e da lì ho iniziato a pensare come anche il lavoro che ho fatto fino adesso che ho sempre pensato non avere niente a che fare con la periferia ma molto più con la diversità come invece possibilmente periferico soprattutto per quanto riguarda questa idea geografica di periferico questa idea di viaggio verso che è un po' quello che caratterizza l'idea di passaggio dalla periferia all'urbanità alla prossimità qui farei vedere delle altre immagini che ho portato il primo lavoro è un lavoro che è un lavoro questo è l'immagine della mappa della 90-91 fatta da uno studente dove praticamente ad ogni fermata ha scritto delle cose fiero come una mera separati bagaglio controcorrente sono solo e stanca fat boy slim probabilmente sono tutte cose che ha vissuto questo studente ma è bello vedere che Milano funziona per cerchi ed era perfettamente compatibile con questa idea di circonferenza come periferia ma andiamo avanti questa è una delle immagini scattate dagli studenti dalla fermata ecco e questo è questo lavoro di cui vi parlavo che è periferico nel senso di remoto nel senso di territori remoti come quelli del Vercellese dove la produzione del riso ha caratterizzato e tuttora caratterizza questi luoghi ma dove molto è cambiato innanzitutto è arrivata l'industria che condivide lo stesso territorio ma soprattutto le tecniche di coltivazione sono totalmente diverse di conseguenza la presenza dell'uomo non è più così necessaria e quindi questi territori sono svuotati sono svuotati sia di identità che di popolazione questo fa sì che vediamo una slide successiva ci siano queste enormi proprietà che sono ovviamente le proprietà del proprietario terriero generalmente che erano dei piccoli villaggi dove c'era la scuola c'era la chiesa dove c'erano questi grandi edifici che ospitavano le mondine che erano le lavoratrici del riso che una volta all'anno si trasferivano da tutte le zone remote dell'Italia in questi luoghi per vivere insieme alla famiglia e durante il giorno occuparsi della della monda che è la pulizia delle piantine del riso è interessante vedere come questi luoghi non abbiano più una vocazione non abbiano più un'identità proprio perché la forza umana non è più necessaria e rimangano luoghi in cui non c'è quasi nessuno non c'è quasi nessuno l'uomo se n'è andato le mondine non ci sono più l'unica cosa rimasta è la presenza del vento che è in realtà un fenomeno legato al cambiamento climatico che ha portato il vento e quindi anche un nuovo modo di leggerlo e anche un nuovo modo di coltivare il riso che non ha più necessità di acqua o comunque non viene più seminato in acqua ma viene seminato in secca anche perché l'acqua scarseggia e quindi questo progetto che si chiama quasi nessuno parla del fatto che l'umanità toglie o aggiunge questo livello di periferia a questo territorio che nel frattempo è anche un territorio difficile da vivere proprio perché è molto caldo d'estate molto umido e quindi ha una condizione periferica molto forte ma vediamo anche un altro progetto e queste sono le immagini delle mondine che non ci sono più che percorrevano in file parallele la risaia detta mare a quadrati proprio per quest'idea di acqua contenuta in dei quadrati per pulire tutto l'appezzamento di riso un paesaggio simile ma in realtà in un territorio completamente diverso è la pianura padana questa è un'immagine scattata a Pessina Cremonese dove esiste dove esiste un tempio Sikh e dove la popolazione che abita il territorio di Mitrofi si reca ogni weekend ma soprattutto anche durante la festa del raccolto che è questa festa Sikh che è stata trasferita in Italia che viene celebrata ogni anno l'8 aprile in tutte le campagne agricole o soprattutto nei territori dove i Sikh abitano che sono soprattutto anzi sono solamente le campagne agricole della pianura padana e dell'agropontino i Sikh in Italia non ci sono nelle città abitano le campagne per questa idea di rapporto con la natura che hanno deciso di continuare fanno quasi tutti la stessa professione soprattutto lì ovvero sono mungitori di mucche per la produzione del parmigiano reggiano quindi un prodotto estremamente made in Italy e nel frattempo hanno condizionato e cambiato questi territori anche se non si vede dal punto di vista architettonico guardiamo una slide successiva questo è il Tempio Sikh di Pessina Cremonese che è questo supermercato che è stato trasformato nel Tempio Sikh che appunto appare nelle periferie delle città e parla di momenti nuovi della periferia andiamo avanti e questa potrei considerarla l'immagine finale che è in realtà un'immagine fatta da due immagini scatterei anche la slide successiva o andrei avanti indietro forse all'infinito facendo vedere come questa piazza chiamata Piazza Unità d'Italia nel giorno della festa questo Vaisaki la festa Sikh si riempie e si svuota raccontando una storia di totale cambiamento comunitario nel villaggio che non è registrabile nel suo tessuto urbano perché è un fatto periferico ma che diventa manifesto della diversità grazie io vorrei farvi fare un piccolo escursus teorico su questi temi prendendo anche degli spunti di riflessione anche perché dal punto di vista biografico sì sono nato in periferia e anche io sono figlio di emigranti ed sarebbe interessante anche qui raccontare un po' quelle che sono le esperienze anche della lingua cioè per dire io il milanese l'ho sentito quando sono arrivato nelle scuole quando il milanese o anche l'accento milanese quando ho cominciato a frequentare persone che non erano della periferia io che sono originario di Cività Vecchia a opera ero quello del nord cioè nel senso che io ero quello più nordico di tutti nel palazzo nella via alla scuola elementare quindi era una cosa particolare se posso dire prima di fare l'escursus teorico una cosa però che ci fa capire il discorso di Ugo da Pietra la prima scuola dove ho insegnato come maestro di opera si chiamava Sacco e Vanzetti ed è questa una cosa interessante perché ci riporta a delle periferie che avevano un portato politico e di rivendicazione di riappropriazione che passava anche attraverso invece l'istruzione che passava attraverso i nomi che si davano alle scuole i nomi che si davano alle vie dei corsi principali proprio perché rappresentavano un'idea di riscossa di riscossa possibile ecco in effetti non è andata benissimo su questo sono d'accordo però per fare diciamo il ruolo dell'antropologo perché oggi sono chiamato qui per avere questo ruolo e è un ruolo che mi piace è il mio mestiere l'escursus teorico che volevo fare è brevissimo non preoccupatevi però richiama un po' le cose che sono emerse cioè che cosa significa abitare cioè abitare ha a che fare con quelle che sono le nostre relazioni quindi con le persone cioè abitare i luoghi non è soltanto costruire qualcosa di materico ma qualcosa di simbolico e soprattutto sono le relazioni che noi siamo in grado di costruire all'interno della comunità quando quelle relazioni crollano crolla anche un'idea di architettura funzionale noi sappiamo bene che ci sono stati dei progetti a partire da quelli famosi le vele che erano pensati o le Corbusier quando appunto ha fatto determinati progetti che dovevano essere funzionali per far vivere meglio le persone ma se poi non c'è una relazione intima emozionale con i luoghi quelle strutture possono essere pensate benissimo dai progettisti dalle progettiste ma crollano crollano nel vero senso della parola perché quelli di Corbusier sono stati poi dinamitati e quindi l'idea è che il luogo ha a che fare sì con il materico che ognuno sta dicendo che non è importante pensare progettare in modo intelligente ma quello che è mancato nella maggior parte delle periferie soprattutto italiane è un'architettura della partecipazione come diceva Giancarlo De Carlo che è uno dei nostri più grandi architetti del novecento e l'architettura della partecipazione e qui tiro l'acqua al mio mulino ha necessità di relazionarsi in modo interdisciplinare con chi fa ricerca sul campo con chi fa etnografia con chi incontra le necessità delle persone che vivranno quei luoghi perché abitare non è soltanto stare in quel luogo ma come diceva Jonathan prima è essere quel luogo cioè noi apparteniamo al luogo che si iscrive nel nostro sé più intimo e questa cosa qua è molto interessante per capire anche le problematiche legate alle periferie io poi mi prendo un altro ruolo che è quello visto che vado a chiudere di fare anche l'ottimista cioè è difficile perché so che arrivano notizie di cronaca so che le situazioni delle periferie non sono delle migliori anche perché c'è stato poco investimento dal punto di vista delle case popolari del demagno noi siamo sempre di più e anche qui sono molto d'accordo con quello che si diceva nell'omologazione se voi prendete invece i progetti delle case popolari di Vienna o di Barcellona c'è un'idea di casa popolare interclassista dove non ci devono essere soltanto gli strati più poveri della società ma che invece ci sia un incontro una relazione fra varie classi sociali anche per produrre una contaminazione una contaminazione che non è soltanto dall'alto verso il basso attenzione ma anche dal basso verso l'alto so che questi termini sono brutti ma in pochi minuti mi è più facile parlare così se avessimo tempo per un seminario eliminerei basso alto nord su periferia centro anche eliminerei però tendenzialmente c'è un problema strutturale in quello che è stato combinato dalla gestione politica delle periferie questo è giusto dirlo però è anche vero che io sono d'accordo con una pietra quando dice che la periferia ha anche uno spazio di rappropriazione è uno spazio di risignificazione e di creare immaginari istituenti cioè pensare il mondo che adesso non c'è ma che ci potrà essere e nella mia ricerca sul campo quello che ho cercato di fare è stato parlare delle periferie anche a volte come piccola criminalità che attua rituali di resistenza per sopravvivere ma non vi voglio parlare di questo perché questo sarebbe un po' più difficile da chiarire in pochi minuti e lascerebbe troppo spazio a dei dubbi fra di voi secondo me su quello che era il progetto della ricerca e invece ho fatto un'altra ricerca più semplice che è durata tre anni che era proprio abitare ai margini in occidente si chiama abitare illegale il lavoro quindi è abbastanza chiaro il titolo anche se poi era un titolo e non è proprio solo l'illegalità non è il tema il tema è la marginalità la periferia ma come vi dicevo prima la frontiera delle periferie si può spostare e quindi in questo lavoro io ho cercato di narrare le storie da chi nei margini ricostituisce il proprio corpo sociale attraverso un'appartenenza ma che non è un'appartenenza monolitica ma che è un'appartenenza che si sposta e che tramite la mutazione culturale produce qualcosa di nuovo e che non si ferma non si cristallizza e quindi ho lavorato tendenzialmente su un'altra cosa che finisce troppo spesso soltanto per i fatti di cronaca sui giornali che sono le case occupate e sì perché le case occupate noi pensiamo probabilmente non che è qui che molto spesso sono quei luoghi dove c'è il racket criminale di chi occupa le case la vecchietta va in vacanza e gli occupano la casa è chiaro succedono anche queste cose ma sono dei dati assolutamente anche dal punto di vista numerico minori rispetto invece all'entità che c'è in tutto l'occidente quindi non parlando soltanto d'Italia ma l'Italia è stato uno dei casi più interessanti dal punto di vista antropologico in cui ci sono movimenti per il diritto alla casa con migliaia e migliaia di persone che non occupano le case delle anziane ma che cercano di occupare gli spazi lasciati alla speculazione edilizia e alla privatizzazione delle case del demanio quello che interessava a me in quegli spazi non era tanto il diritto alla casa che è interessante e importante ma era come in quegli spazi si ripensava l'idea di abitare all'interno degli spazi della città in cui per esempio si contrastava un'idea di decoro calata dall'alto chi ha detto che non possiamo mangiare in strada tutti assieme se poi puliamo e ovviamente manteniamo il posto in un modo adeguato nel rispetto dell'altro perché non posso fare un orto urbano e deve esserci come direbbe Gilles Clément la dittatura del giardino all'inglese e quindi spiazzi di riappropriazione oppure scuole autogestite per chi non si può permettere di mandare all'asilo i bambini perché sapete che quando finiscono gli spazi negli asili comunali costano ben cari gli asili nido privati le scuole dell'infanzia private oppure vado veloce perché credo che non voglio farmi sgridare sui tempi però vi voglio raccontare altri due tre esempi quindi anche questo è un mondo complesso che non si può dire soltanto la casa occupata sono i giovani dei centri sociali questa è l'altra grande semplificazione se voi andate a vedere anche chi abita le case occupate a Milano e stiamo parlando di centinaia e centinaia di appartamenti centinaia e centinaia di appartamenti non quelli del racket ripeto sono persone di tutte le età e quindi non sono soltanto i giovani ci sono donne e uomini di diversa provenienza molti della diaspora ma non soltanto che si trovano in una situazione in cui nelle interviste che io facevo nelle conversazioni che avevo il problema principale era il reddito se io a Milano lavoro e guadagno mille euro al mese come posso vivere in una casa se non riesco a accedere a permettermela alle case popolari e quindi si creavano questi movimenti di riappropriazione io li chiamerei e di ripensamento poi ho lavorato su una cosa più diciamo che potremmo considerare non periferia ma che sono una periferia di un sistema che sono gli ecovillaggi le comuni qualcosa che sembra un passato remoto gli IP degli anni 70 no io invece vi sto raccontando una storia di economia circolare di ecologia sociale e dove lo spazio abitativo è sì periferico rispetto al sistema centrale di come noi oggi abitiamo ma di persone che sono dei veri e propri o direi disertori della crescita imposta dalla nostra società turbocapitalista e quindi li ho trovati molto interessanti anche qui sono luoghi in realtà non omogenei quindi ho lavorato con ecovillaggi di ispirazione cattolica con ecovillaggi di ispirazione marxista con ecovillaggi di ispirazione anarchica con ecovillaggi di ispirazione buddista quindi ci sono tanti modi di pensarsi in uno spazio che sì periferico ma che in realtà ci sta dicendo una cosa si può vivere in un altro modo e possiamo costruire laboratori di utopia qui ora in queste periferie che sono appunto possibilità poi in Germania per esempio mi è capitato invece di conoscere questi posti che si chiamano Wagenplatz non so se qualcuno di voi c'è stato immagino no? sì ma comunque ce ne sono tanti ovviamente quelli più famosi sono Kreuzberg a Berlino e sono questi luoghi appunto dove all'interno della città si creano degli spazi temporaneamente autonomi direbbe Hacking Bay che non so se l'avete letto il grande pirata della scrittura dei cultural studies americani e è molto interessante anche qui perché ho notato senza voler idolatrare nessuno e creare mitizzazioni però all'interno delle città si costituiscono delle periferie dell'immaginario che però anche se sono periferiche minoritarie portano a pensare a un altro modo di vita all'interno di queste grandi città e quindi in questi Wagenplatz si autocostruiscono le case si vive in un modo molto spesso con economie partecipate si sta attenti a quello che è un'idea dell'impatto sociale che si ha nel modo in cui si abita e si ripensa proprio un modo di vivere la città oggi e quindi cosa fanno queste periferie queste periferie immettono il futuro nel presente che io credo che sia la cosa più importante che è quello forse che mancava adesso che non me ne vogliono questi ragazzi di cui parlavi tu prima però l'idea di appartenere totalmente a un luogo e non avere l'idea di poter invece creare qualcosa magari fuori dentro tornare e fare quello che è un'attività nomadica che oltretutto rappresenta la nostra stessa specie che anche se a volte non è soltanto fisica ma è proprio qualcosa che ha a che fare con le idee che possiamo mettere in questi laboratori di differenze altro esempio più diciamo anche forte dal punto di vista dell'architettura che potrebbe farci un dibattito ma sapendo un po' quello che fai secondo me che interessano anche a te sono i mondi degli autocostruttori e delle autocostruttrici e quindi c'è tutto un lavoro che ho cercato di fare su autocostruire le periferie del sistema per autocostruirsi dal punto di vista dell'identità cioè come la casa se è costruita dalla comunità che ci vive prende forma attraverso proprio il simbolico e ciò che rappresenta me come soggetto che si scrive nella comunità e poi un'altra parte di lavoro invece sugli slam e le baraccopoli perché io mi ero rimasto abbastanza allucinato quando ho iniziato a fare questa ricerca e ho scoperto che in Europa sarebbe bello cominciare secondo voi quanti ce ne sono ma non abbiamo il tempo comunque all'epoca della mia ricerca che era il 2016 c'erano 54 milioni di abbaraccati 54 milioni vuol dire tutta Italia che vive nelle baracche in giro per l'Europa molti di queste donne e questi uomini sono le donne e gli uomini che sono nati fuori dalla fortezza Europa e che cercano una salvezza possibile in Europa ma non tutti molti sono anche le fasce sempre più marginalizzate all'interno della società stessa di chi nasce in questo paese che si trovano a vivere pre strada a costruire baracche e uno dei lavori era stato su Borgo Mezzanone che oltretutto è tornato di nuovo sulle cronache ma sempre secondo me da un punto di vista solo della notizia che fa fare il click e non con un'indagine approfondita su quello che è Borgo Mezzanone che sono appunto questi slam dei braccianti cioè di quelle donne di quegli uomini che ci portano il cibo nelle tavole quelle che io considero delle nuove schiavitù ma anche in quel caso quello che io ho cercato di fare senza negare la marginalizzazione schiacciante che vivono queste persone era vedere come in uno spazio marginale in uno spazio duro e difficile come uno slam una baraccopoli comunque si creassero delle pratiche di vita che erano proprio l'idea di futuro nel presente grazie mille credo che ce ne dobbiamo andare non so se ci sono domande qualcuno vuole dire qualcosa sì c'è un microfono avete i microfoni sì credo si senta sì ho fatto una riflessione su quello che sulla sulla base di quanto aveva ho fatto una riflessione si sente meno sulla base di quanto diceva Jonathan Bazzi all'inizio ho fatto una riflessione sul fatto che spesso si dice che c'è sempre qualcuno a sud più a sud di noi e in qualche modo anche visto le recenti cronache purtroppo di guerra penso che c'è sempre una periferia della periferia allora volevo solo chiedere cosa pensate voi per quanto riguarda una visione anche anche più allargata di che cosa vuol dire essere e venire dalla periferia e vivere anche questo aspetto nella nostra vita credo era a te la domanda se non l'ho capito Max non ho ben capito la questione si no no vada pure diretto inserzione che abbiamo nel mondo di separatezza io penso che sia puntata quotidianamente nella periferia quindi quella introspezione che possiamo avere ma come dicevi prima il realismo che a volte ci frena ma in realtà potrete in questa nostra condizione potrete anche evitarsi approvare delle restrizioni ma sicuramente c'è una diciamo può essere ma diciamo non è affatto detto che sia una sicuramente un un training precoce di sensibilità verso appunto altre forme di marginalità o di periferia può esserlo però appunto in tanti casi questa è la mia esperienza troppo c'è una grande concentrazione su di sé quindi diciamo in alcuni casi per alcune persone l'essere nato nata ai margini è un presupposto cioè in qualche modo crea una forse uno sguardo una capacità di vedere di più o vedere più largo diciamo ma c'è anche tanto un tema di ripiegamento su se stessi quindi insomma la marginalità anche se oggi questa è una cosa che a me interessa poi tanto siamo in un contesto in cui un contesto proprio culturale comunicativo in cui della marginalità si parla sempre con tinte positive vittimistiche la verità è che spesso se sopravvivi ti crei delle corazze cerchi degli strumenti o delle armi e quindi a volte direi spesso le persone che vengono dai margini sono a loro volta possono essere ingombranti possono essere problematiche io sono una persona piuttosto problematica per esempio non so se se c'è altro se no possiamo anche andare secondo me verso la chiudiamo sono le le sei ci sono altre prego si va bene ok non vale come domanda va bene ci rimettiamo la camicia e torniamo c'era caldo grazie buona buona serata e buona continuazione con qua con Viras